In una nota inviata agli organi di stampa, il sindaco di San Cataldo Giampiero Modaffari comunica che il dirigente dell'Ufficio Intercomunale dell'Agricoltura del Comprensorio di Mussomeli ha trasmesso ai sindaci e alle organizzazioni di categoria una nota nella quale si legge che tutti coloro che hanno subito dei danni per effetto delle recenti piogge dovranno compilare il modello allegato alla stessa per le segnalazioni. Gli allegati compilati dovranno pervenire all'Ufficio Intercomunale dell'Agricoltura del Comprensorio di Pertinenza per i comuni di Caltanissetta, Santa Carterina, Villa Armosa, San Cataldo, Resuttano le segnalazioni dovranno pervenire al credito agrario, danni e altri interventi a sostegno dell'attività agricola per i comuni di Caltanissetta per i comuni di Caltanissetta